Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo arrivati all'ultima parte delle funzioni. Oggi andremo a vedere le funzioni di tipo d'adapta che sono quelle sempre un po' più critiche e vedremo un po' tutte le trasformazioni che potrebbero esserci utili per fare un po' tutti i passaggi che ipoteticamente dovremmo andare a creare. Allora, anche qui vi ho fatto una bella lista, praticamente ho messo un po' tutte queste conversioni qua e poi in fondo vi ho aggiunto anche questa cosetta qua che riprende praticamente la funzione space che abbiamo visto all'inizio che va a rendere la stringa in modo lunga nel modo corretto. Io ho messo altri esempi, vi ho messo come si fa con Microsoft Access, poi vi ho messo la stessa formula, otterrete lo stesso risultato su Excel, quindi c'è la formula per Excel e poi c'è anche l'esempio per andare a farlo ad esempio con SQL Server, quindi ve le metto qua e eventualmente ve le guardate con calma. Andiamo sulle funzioni di data, allora cominciamo a fare la conversione. Allora, cosa ho fatto nel nostro Access? Ho creato una tabellina di questo tipo dove ho messo praticamente sul primo campo ho messo un campo che si chiama data e è formattato in formato data ora. Nel secondo ho messo una data testo, è in testo proprio, e nella terza ho messo la data giuliano che per chi non lo sa la data giuliana è la data in formato universale, praticamente ovunque voi andiate si legge sempre alla stessa maniera. Se la data tradizionale, e andiamo a leggerla in America ad esempio, si inverte il giorno col mese, quindi questo può far confusione quando il giorno, il mese, scusate il giorno è sotto ai 12, perché magari leggo 12-12-2020, ma qual è il mese, qual è il giorno, magari leggo 12-11-2020, qual è il mese, qual è il giorno, è confusionale. Invece la data giuliana è quella data che nessuno si può sbagliare. Anno, mese, giorno, e non c'è nessun slash, proprio 2020-11-12, si sa che l'11 è novembre, il 12 è il giorno. Questa è una cosa, una convenzione praticamente che si usa in tutto il mondo, quindi quando voi utilizzerete la data giuliana sapete che è uguale per tutti, chiunque la legge non potrà mai sbagliarsi, io la uso spesso ad esempio questa cosa qua. Ok, vediamo poi nel contenuto, ho messo a punto un po' di informazioni, vediamo che la data formattata in formato data me la allinea verso destra, la data formattata in testa è allineata verso sinistra, e ovviamente anche la data giuliana che è stata messa testualmente è allineata a sinistra. Volendo la data giuliana la potete formatare anche come numero se volete, in quel caso la vedreste allineata verso destra. Di solito comunque si mette in formato testuale. Andiamo a vedere cosa ho fatto, praticamente nella prima funzione cosa ho fatto. Parto dalla data testo e per qualche motivo ho bisogno di convertirla in data vera, perché ad esempio se noi andiamo su una data testo e dobbiamo sottrarre 10 giorni, ovviamente non funziona perché è un testo, invece se è una data questa cosa è possibile farla. Quindi con cDate è possibile fare la conversione di una data in testo in formato data. Difatti se la lanciamo vedete che la conversione, adesso me l'ha allineato verso destra, invece quella di testo è allineata verso sinistra. Vogliamo fare adesso che abbiamo convertito la data, facciamo un meno 10, ok, ci mettiamo meno 10 e lui andrà a fare appunto il conteggio del mio calendario, vedete qui era 15, ha fatto meno 10 e me l'ha portato a 5, meno 10 giorni. Se andiamo a fare questa cosa qua ad esempio su quella di testo, vedete come dicevamo prima, ovviamente dà errore perché sul testo non posso andare a compiere queste operazioni. tant'è anche che se cambiamo anno, ok, non funziona nel senso, anche se, questo bisogna stare attenti anche sulla data giuliana se si fa questo tipo di cosa perché si potrebbe sbagliare ad ogni modo. Vedete se faccio anche il cambio anno, qui ho 6 gennaio, ok, 2021, se faccio il cambio anno e faccio meno 10, vedete che comunque lui lo calcola sempre nel modo corretto. Quindi le date si fa meno il numero di giorni che volete, ma l'importante è che la data sia in formato data, altrimenti non funziona. Poi che cosa ho fatto? Praticamente ho fatto un elenco per fare la conversione nei vari formati, ad esempio voglio fare la conversione della data in emettere anno, mese, giorno e al posto dello slash ci metto il puntino. Voglio tirarmi fuori la settimana che, attenzione, non è www ma è ii. In access la settimana si calcola con la ii. Piuttosto che dalla data mi voglio tirar fuori, qui è now, mi voglio tirar fuori l'ora, si fa così e così via. Allora vediamo un attimino come si fanno a fare queste cose qua. Allora io ho fatto l'oggi, se io voglio vedere la data oggi di sistema, ok, si mette date aperta e chiusa tonda, quindi quando io scrivo questa cosa qua io rilevo la data che c'è nel mio sistema, nel mio computer, quindi qua. In questo caso uscirebbe 17.1.2021. Qui quando io metto il punto, ok, perché voglio separarli col punto e non con lo slash, vedete, faccio così. Quando io do l'ok e clicco sotto, comunque rientro, vedete lui mi aggiunge in automatico lo slash, quando si usa il punto lui mette questa cosa qua, però io qui potrei metterci anche il trattino, non cambia niente. Infatti se rientro, vedete, lui ha messo il trattino e quando io la eseguo, vedete, lui mi riporta la data con il separatore di trattino, ok? Questa è una soluzione. Vediamo l'altra soluzione, ad esempio la settimana. La settimana è un po' più complicato. Allora, la settimana in realtà, anche nel file che avete visto, si fa semplicemente così, praticamente è questa qua. Ecco qua. È questa. Format, io parto dalla data di sistema, ma potrei metterci anche un campo, potrei metterci anche il campo data, per dire così, prende quello che c'è in tabella. Però adesso lasciamo quella di sistema. E poi gli dico, guarda, formatami in anno, settimana. Quindi vedevamo appunto che per fare il mese e il giorno è mm e gg è il giorno, a è l'anno. La i è la settimana. Però cosa succede quando si fa sta cosa qua? Adesso mi copio la formula e vi lascio solo questo pezzettino qua. Cosa succede? Che se io lancio questa formula fatta così, io ho messo 2i. Però qua, vedete, lui mi dice 2021, 4, perché adesso siamo nella settimana, 4. Però quando è minore di 10, praticamente non mi aggiunge lo 0, come vediamo ad esempio di qua, no? Che anche qua è stata comunque fatta la stessa operazione. Quindi bisogna stare a fare attenzione. Quando si lavora con le settimane, ok. Quando la settimana è minore di 0, se andiamo a mettere ad esempio l'anno più la settimana, è buona cosa andare ad aggiungere anche il carattere mancante, in modo da avere il campo formatato sempre con 6 byte. Quindi come si fa a fare questa cosa qui? Semplicemente, ecco qua la formula, facciamo uno zoom, si fa un if, quindi cosa facciamo? Quello che abbiamo visto nella scorsa lezione, diciamo, se la data, la settimana, vedete, faccio il format, ok, dalla data di sistema in questo caso, ii, ok, quindi mi prende il risultato di questa cosa qua, è minore di 10, quindi se la settimana è minore di 10, allora mi porti formato data, ok, anno, quindi qua mi tiro fuori solo l'anno, poi concateno e ci metto uno 0, sempre una stringa, perché noi otteniamo una stringa come risultato, and ci mettiamo anche la settimana, quindi lui mette l'anno, aggiunge uno 0 e poi ci mette la settimana, solo quando il risultato della settimana è minore di 10. Altrimenti calcola semplicemente così, mi fai l'anno settimana, perché quando noi saremo nella settimana 10 non serve fare questa operazione di concatenazione. Facendo così, quando noi la eseguiamo, ecco che noi otteniamo il risultato 2021 04, e quando saremo la 10 avremo 2021 10, ok? Questo è utile perché dopo quando ve lo portate ad esempio in XN e in frontend, se non avete lo 0 magari vi trovate le settimane sfalsate, avete l'ordinamento che è sfalsato, invece aggiungendo anche questo byte avrete l'ordinamento perfetto, ok? Perfetto, vediamo un altro sistema per calcolare la data, la settimana. L'altro sistema è datepart, ok? Noi potremmo fare format ii, invece con datepart è un altro sistema. Quindi anche qua possiamo dire che la funzione sarebbe datepart ii, ci mette il mio formato e parto dal campo data che non c'è, e parto dalla data di sistema. Anche qua ha lo stesso problema, se è minore di 10 mi riporterebbe la settimana con un byte, che potrebbe anche andare bene se andiamo a calcolarci solo la settimana e lo trattiamo come un campo numerico, ma se noi vogliamo sempre avere il doppio byte per qualche motivo, anche qua dobbiamo fare lo stesso tipo di if. Quindi controlliamo se è minore di 0, altrimenti aggiungiamo uno 0 e poi concateniamo la settimana. La logica è la stessa, dopo un po' che le fate sono sempre le stesse cose. Poi vediamo l'ora. Allora per l'ora non si parte, ad esempio, se non ho un campo con l'ora all'interno della mia tabella, ok, voglio prendermela da sistema, non è date ma è now. Con now io ottengo sempre il risultato, la data di sistema più l'ora di sistema. Quindi sempre con la funzione format, ok, io parto da now e con hh mi tiro fuori l'ora, con nn mi tiro fuori i minuti e con ss mi tiro fuori i secondi. Difatti se vado ad eseguirlo, ok, lui mi dice che adesso sono le 10, 32, 24. E poi qui ovviamente lì ho messo io il separatore con i due punti, perché ovviamente potrei andare a mettere anche un trattino per dire, vedete, qui mi ha fatto un trattino, 10, 32, 2, 34, ok. Quindi questa cosa qua potete far scegliere veramente voi con il formato come più preferite. Poi andiamo su quelle più interessanti. Passiamo dalla data, ok, dalla data giuliana. Quindi abbiamo appunto questa data qua in unita, che era quella che vi spiegavo all'inizio. Abbiamo sempre data giuliana composta da anno, mese e giorno, ok. Ipotizziamo che dobbiamo fare una conversione in data, perché magari dobbiamo sottrarci dei giorni, perché se qui ovviamente siamo a cavallo dell'anno, ok, qui facciamo meno 10, ok, questo è un numero e a meno 6 qua va allo 0 e dopo fa 100 meno 4, e qua diventerebbe 0,96 praticamente, e non c'entra niente. Quindi con la data giuliana non possiamo fare sottrazioni esatte delle date, dobbiamo sempre avere la data in formato dato per fare quel tipo di operazione. Quindi bisogna fare la conversione magari da giuliana a data e dopo magari se la riporta di nuovo in formato giuliana come output. Come si fa a fare questa cosa qua? Allora, qui c'è la formula pronta, alla fine basta che voi ve la copiate quando vi serve, e si usa la funzione date serial, quindi cosa si fa? La scomponiamo un attimino, facciamo così e facciamo così, e qua si chiude il date serial praticamente. Noi gli diciamo, guarda, voglio creare una data partendo dalla serie, questa qua, quindi noi facciamo un left, ci tiriamo fuori l'anno, l'anno abbiamo detto che sono i primi 4 byte, quindi facciamo left, partiamo dal campo data giuliana e ci tiriamo fuori i primi 4 byte. Poi facciamo un mid, perché dobbiamo tirarci fuori il mese, ok? Quindi sempre dalla data giuliana partiamo dal primo byte che dobbiamo estrarre, quindi dal quinto, perché il mese parte dal quinto, e ci tiriamo fuori due, quindi il quinto, il sesto byte, e qua abbiamo il mese. Poi si può fare la stessa cosa con il giorno, qua possiamo fare anche un right 2, per esempio, per prenderci il giorno al posto di usare il mid. Però se per qualche motivo ci sono degli spazi, ci sono altre cose, potrebbe essere un problema, quindi col mid non sbagliate mai, quindi si parte dal settimo carattere e si estraggono due dati. Facendo questa cosa qua, cosa succede? Che noi eseguiamo questa cosa qua, vedete, da data giuliana noi otteniamo appunto la data, e vedete che è in formato data che è allineata verso destra, quindi qua noi potenzialmente dopo possiamo andare a farci anche un bel meno 10, ad esempio andiamo a vedere il risultato, vedete che io ho fatto un meno 10 e qua effettivamente sono finito dal 6 gennaio che ero, ho fatto meno 10 e sono andato al 27.12, quindi il data serial ci permette di partire da una data testuale, in questo caso la data giuliana, e la converte in data facendo appunto la serie dei nostri risultati, che appunto è anno, mese e giorno, ok? Questo è per andare da data giuliana a data. Adesso vediamo come si fa a fare l'opposto, ci sono due sistemi, ce n'è uno standard che è molto semplice, anche qui adesso ve lo spiego e poi farete sempre un copia in colla quando vi serve. Praticamente noi partiamo dalla data e la trasformiamo in data giuliana, ok? Qui si fa così, praticamente, si calcola l'anno, si parte dal campo data, in questo caso non sto portando dalla data di sistema, ma sto portando dal risultato del mio campo che c'è dentro qua, e faccio, mi calcolo l'anno, quindi con year, ok? Io calcolo, praticamente, estraggo solo l'anno da questa data qua, qui c'è un campo data che è in formato data, quindi qua estrarrà 2021 ad esempio, e poi viene moltiplicato per questa unità. Poi si fa la somma, ok? Perché questa unità mi porta praticamente alla lunghezza dei numeri caratteri che mi serve per comporre la data giuliana, che è composta da quattro caratteri per l'anno, poi ce ne sono due del mese e due del giorno, quindi noi dobbiamo ottenere un numero lungo 8 byte, e quindi si fa così, noi abbiamo l'anno, lo moltiplichiamo per questo numero, poi facciamo più, ok? E ci calcoliamo il mese, ci prendiamo sempre la data, e qui convertiamo la data in mese, qui otteniamo il risultato, lo moltiplichiamo per cento, così poi da questo numero che abbiamo come risultato, sommiamo questo numero che esce qua, e casualmente, non tanto casualmente, ma esattamente, comparirà nel posto giusto all'interno del mese. E poi facciamo più, e ci aggiungiamo il day, che praticamente il day non serve moltiplicare niente, perché sono sempre gli ultimi due, quindi se abbiamo 1000, e siamo al dodicesimo giorno, facciamo più 12, e abbiamo effettivamente il 12, quindi con day calcoliamo appunto il giorno dalla nostra data. Vediamo che cosa succede quando la eseguiamo, ecco che vediamo che appunto, lui con quel 1000 va a moltiplicare l'anno, e aggiunge praticamente questi valori qua, e poi fa lo stesso col mese, e così comunque andiamo a ottenere la nostra data giuliana. Difatti se vediamo 15-1-2021, noi abbiamo anno, mese, 1, e il nostro giorno che è il 15. Poi facciamo un'altra cosa, qui c'è un altro sistema, sempre praticamente lo stesso, diciamo che è quello che abbiamo appena visto, però ipotizziamo che noi vogliamo partire dalla nostra data, e vogliamo convertirla in data giuliana, però facendo una sottrazione di 10 giorni. Quindi rispetto a prima, che cosa cambia? Cambia che abbiamo praticamente sempre la stessa formula, però quando andiamo a convertire il nostro anno, il nostro mese, il nostro giorno, dalla data e sottraiamo sempre le giornate che dobbiamo andare a sottrare la nostra data. Così facendo noi faremo appunto il meno 10, meno 100, meno 300, quello che volete. Quindi quando andiamo a eseguire questa cosa qua, ecco che vedete che ho fatto praticamente meno 10 giorni rispetto al 15 gennaio che vedevamo sull'altra data. Sul file Excel vi ho dato anche un altro sistema per fare questo tipo di conversione. non si fa con le moltiplicazioni ma si utilizza la funzione date part. È un po' più complicata, a me non piace tanto, ma comunque ve l'ho messa come altro sistema alternativo. Eventualmente se dovete fare altre cose la trovate qua. È tutta questa formuletta qua. Comunque questa di solito è quella che tendenzialmente io uso sempre. Bene, anche con questa lezione direi che abbiamo terminato. Sapete che trovate sempre gli access in descrizione che potete andare a scaricarli. e con questa lezione appunto trovate anche questo file Excel che potete andare a scaricarvi con tutte le funzioncine già pronte in modo che potete metterlo nel vostro repository e usarlo quando volete. Come sempre se la lezione è stata di vostro gradimento vi invito magari a condividere questa risorsa nei vostri social e a commentarla. Lasciate un bel like se vi fa piacere. Iscrivetevi se non siete iscritti. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!